Oggi un'esplosione di auguri! Questa è arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Bentornati nella vostra casa creativa ragazzi Oggi per creare con me una card un po' differente Una card davvero esplosiva E si, infatti questa volta gli auguri li faremo in modo un pochino diverso Un pochino più strutturato Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere cosa ha combinato Ed ecco il nostro tavolo pieno, zeppo di materiale per la card di oggi Che è una card veramente, veramente molto bella Cominciamo subito Cosa ci occorreranno? Materiali di facilissima reperibilità Una buona colla, qualunque voi desideriate Forbici Quindi ci occorreranno bulino, taglia a balza e una riga lunga E naturalmente la base da taglio Scotch carta Ora comincerò ad elencare una serie di materiali Tutti della Bobanni Perché questo è un progetto che sto facendo per il loro blog Però potete tutti sostituirli con dei materiali che adesso vi andrò ad indicare Userò della pasta perlescente Che altro non è la variante perlescente del colore gommato che vi ho insegnato a fare qui Per fare diventare questo colore gommato perlescente Basta di sciogliere all'interno della composizione Un ombretto perlato del colore che vorrete Quindi se vorrete un bianco Prendete un bianco perlato Schiacciatelo dentro Naturalmente non un ombretto buono Uno dei cinesi E il colore gommoso vi diventerà perlato Quindi una di queste Bobanni Double dot perlescente O qui non si sa mai Anche il glitter past Vi ho insegnato a farlo Lo trovate sempre qui dove ci sono le schede informative Un foglio di acetato Vendono sia in formato A4 che in fogli grandi Poi naturalmente le carte e gli abbellimenti Per abbellimenti io userò questi Che sono degli adesivi spessorati della Bobanni Sono con temi natalizi Ma ve li potete fare facilmente Scaricatevi da internet il soggetto che desiderate Prendete un cartoncino Apiccicate il soggetto sul cartoncino Quindi con un po' di colla Lo rendete adesivo sul retro O con dello scotch biadesivo Tutti questi complementi Potete tranquillamente scaricarli Come immagini da internet Altri abbellimenti di Natale Questi sono i chipboard I Lired chipboard Poi i noteworthy Che sono invece degli abbellimenti Molto sottili Vedete questi sono a forma di regalino Sono comodi Sono già belli e pronti Però ripeto Scaricatevi dei regalini da internet E ritagliate Insomma non ci vuole una scienza infusa Per farli Altre carte E poi la carta vera e propria Per fare la card Come fantasia della mia card Ho scelto un motivo molto leggero Cristalli di neve E cristalli di neve Poi per prendere qualche abbellimento Lo straporerò da queste carte decorate Queste per esempio sono i combo stickers Sono molto comodi Perché è una carta adesiva Quindi io spiccicherò E attaccherò E voilà il gioco sarà fatto Ma adesso la cosa più difficile Andiamo a creare La vera e propria card Innanzitutto devo decidere Quanto voglio che sia grande La mia card Io direi di larghezza La desidero 12 cm Se la voglio 12 cm Punto il 6 Lì dove ho segnato il centro della card E prendo le altre due misure Sia nella parte inferiore Che nella parte superiore Quanto voglio lunga Questa mia card Io direi un 16 cm Quanto vogliamo alti I bordi di questa card Io penso che Il bordo esterno Lo voglio almeno di 2 cm Per far sì che io possa vedere Tutte le linee Senza macchiare la carta Mi servirò del bulino E del righello Il bulino Questo chiodino Con la punta palline Che traccerà il passaggio Piegando la carta Senza sporcarla E allora Cosa faccio? Congiungo tutte le linee Comunque Di questa scatolina Vi metto lo schema Sulla pagina Facebook Di Arte per te Diciamo La chiamiamo Scatolina Natale Natale a sorpresa Card Natale a sorpresa Perché non è una scatolina Comunque è pur sempre una card Quindi card Natale a sorpresa Cominciamo a liberare La card La base della card E adesso possiamo cominciare Con gli incollaggi Una colla Qualunque E mettiamo Un filo di colla Sul margine Sul primo Margine E sull'ultimo Lasciando libere Sia le alette Che la fascia mediana Quindi Solleviamo Solleviamo Le laterali Solleviamo L'aletta Così Piegate all'interno Così che anche L'aletta Su cui non abbiamo Messo colla Si attacchi E Appiccichiamo Quella inferiore E la mia Scatolina È pronta Adesso Devo fare Il vano Entro cui Questa deve Scorrere Abbiamo detto Che ho scelto Questa carta Così Presa di sbiego La nostra Scatolina È alta 16 cm Ricordiamo È alta 16 cm È larga 12 Quindi Prendiamo Le misure Molto semplici Allora Si calcolano I 2 cm Del laterale Dell'altezza Più 2 mm I 12 Della larghezza Più 1 mm È I 2 cm Più 2 mm E facciamo La stessa cosa Anche dall'altra parte L'altezza È comunque 16 cm Quindi Tracciamo Col bulino Le linee Che abbiamo Preso Allora E questa sarà La parte superiore Adesso 12 cm Più 1 mm Lo mettiamo Qui Da questo lato Più Ma sapete che vi dico Quello che rimane Lo lascio tutto Perché tanto L'importante è che Non superi i 2 cm Non li supera Mi servirà Da linguetta Di aggancio Da questo lato Quindi 12 cm Benissimo Ritagliamo Il tutto E pratichiamo Le pieghe 1 2 3 4 Su questa Mettiamo La colla E appiccichiamo La linguetta E si La scatolina È pronta E già così Vi ho insegnato Come fare Semplicemente Una scatoletta Scorrevole A questo punto Con un'altra carta Dobbiamo preparare Un tappetino Interno Per la nostra Scatolina Non vi faccio vedere Per non allungarci Troppo Dovete preparare Un rettangolo Che stia alloggiato Qui dentro Allo stesso modo Con la stessa carta Dovremmo creare Una serie Di queste Braghettine Guardate È una striscia Di carta Che è Lunga Sempre 11 cm E 8 Perché deve Alloggiare Sempre qua dentro È larga 4 cm Con una piega Al centro 2 cm E mezzo centimetro E mezzo centimetro Dai bordi Un'altra piega In modo che Possa fare Così E così Questa sorta Di Braghetta Vedete Che poi Andrà attaccata Sul fondo Della card Così E separerà Una serie Di settori All'interno Della card Stessa L'importante È che L'altezza Della braghetta Sia sempre Inferiore All'altezza Della scatolina Vedete Di queste Potete crearne Quante ne volete A seconda Di quanti Settori Vorrete creare Ora poi Capirete Il perché Quindi deciderete Voi quante farne Io Ne farò Un 3-4 Allora Ora Prendo questa carta E comincio A dividerla Lì dove voglio Inserire Le braghette Questo è un Lavoretto Un pochino Delicato Perché Dovete Prendere La misura E togliere Poi Via via Allora Per esempio Io voglio Che la mia Prima card Si inserisca Ad un centimetro E la mia Prima Braghetta Si inserisca Un centimetro E mezzo Dall'inizio Della Scatolina Quindi Prendo Un centimetro E mezzo Di misura E taglio E mi conviene Appoggiarlo Qua Poi Tolgo Una strisciolina Pari A un paio Di millimetri Così Perché Sarà Lo spazio Che occuperà La braghetta Uscendo E riprendo Un'altra Misura Che ne so L'altra Vorrei Metterla A Tre centimetri Ok E ho quindi Tutto il pavimento Ricomposto Però Tagliato A listarelle Che mi segno Nel giusto Verso Quindi Uno Dobbiamo preparare L'interno Quello che salterà Fuori Dalla Scatoletta Per fare ciò Ci occorrerà L'acetato Io farò Delle striscettine Da due centimetri Circa Poi qui La misura Veramente Non è importantissima Cosa dobbiamo fare Dobbiamo Prendere Un pochino Un Bastoncino Di aceto Una striscetta Di acetato Sporcarla Leggermente Di folla E Attaccarvici Su Un soggetto Così In questo caso È capitato Il regalino Verde Ok E dobbiamo Creare Un pochettino Di queste Sagomine Con l'acetato Che le sorregge Prendiamo Le barghette E Questi Regalini Dovranno Essere Sostenuti Così Da queste Braghette Visto Quindi Rimanere Un po' Sospesi E nello stesso Tempo Sostenuti Cosa si fa Decidiamo Dove Metterli E Decidiamo Anche L'altezza Che vogliamo Assuma Il nostro Soggettino Quindi Con un paio Di forbici Ritagliamo La parte In eccedenza Ok Metterò Proprio Qui davanti I regalini Più piccoli Ora Fatto ciò Apriamo La nostra Braghetta Imbibiamone Una parte Di colla Inseriamo I nostri Regalini Spingiamoli Fino a terra E chiudiamo Ben bene La braghetta In modo Che venga fuori Una cosa Così Prendiamo La nostra Scatolina Un po' Di colla Appena Mezzo Centimetro Fuori Dalla linea Che avevamo Tracciato E un bel Po' Sotto E Con i regalini Verso di noi Attacchiamo La braghetta Lì dove Deve stare La giusta Distanza Ce la darà La fascetta Quindi Inseriamola E Componiamo Il tutto Ok Il vano interno È terminato Ora Vi faccio Già vedere Come funziona E poi Passiamo Alla parte Decorativa Esterna E quindi Quando il nostro Cassettino Uscirà Dal vano Contenitivo Questa sarà La festa Che accoglierà Il nostro Amico Che lo riceverà Che avrà la fortuna Di riceverla Però Dobbiamo mettere Una cosina Che faccia in modo Che la cosa Possa essere Tirata fuori Agevolmente Ho qua Il mio Pezzettino Già pretagliato Dei noteworth Bobbanni Voi usate Un pezzettino Di cartoncino Che leghi bene Con Il vostro Lavoro E Proprio Al centro Mettete La linguetta E fate Asciugare Completamente E adesso Pensiamo Alla nostra Al nostro Vano contenitivo Che deve diventare Anch'esso Una festa Ok Per avvelire La mia card Senza Appesantirla In maniera Esagerata Preferisco Mettere Questa Questo chipboard Che è appunto Vedete Questo adesivo Pretagliato Che voglio mettere Sopra E sotto La mia striscietta Ci metterei Qualcosa 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 Di più carino Vediamo cosa ho Et voilà La mia cassettina È quasi pronta Come consegna Perché Quando noi Viene affidato Un progetto Abbiamo anche Di dover Utilizzare Determiati Materiali O di usare Il perlescent Allora Io userò Il silver E userò Il silver Per fare Dei puntini Che leghino Che leghino E poi Prendo glitterosa Anche questa parte Tieni Questo è per te Oh grazie Ma wow Esplosione di festa Su arte per te Vi lascio alle foto E noi ci vediamo dopo Buon Natale A tutti Ciao Visto che bella Che faccio dei progetti Per la Bobanni Perché naturalmente Sto usando i loro materiali Perché questo è un progetto Che ho fatto per loro Ma voi Ovviamente Potete sostituire Tutto con i materiali Di più facile reperibilità Comunque Per chi fosse Particolarmente curioso Per chi volesse farla Proprio uguale 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 E vi lascio qua sotto Il link della Bobanni A cui chiedere Dove poter reperire I loro materiali Io sinceramente In Italia Non so consigliarvi Dove cercarli Su Amazon Credo Ma non ne sono Non so dirvi Quale venditore Sia migliore di un altro Quindi Dovete chiedere direttamente A loro Se vi interessa Detto ciò Io spero Che questa tipologia Di card vi piaccia È un'idea Un po' nuova Un po' diversa Che potete coniugare Per tutte le feste del mondo Per la festa della mamma Con un bel mazzo di fiori Che viene fuori Insomma Sbizzarrite Come sempre La vostra creatività Vi aspetto su Instagram Su Facebook Su tutti i miei social Ho cominciato ad attivare Anche Pinterest Quindi cercatemi anche là E soprattutto Vi aspetto Sui miei due altri canali Due Cuore e una K Dove sono insieme A quel mascalzone di Gabriele E Ombretta Dove parliamo insieme Di chiacchiere tra donne Bene Io vi ringrazio sempre Per il vostro affetto Se questo video vi è piaciuto Per favore Regalatevi un pollice in su Perché mi aiuterà A tenere alta Arte per te Nelle visualizzazioni su Youtube Naturalmente Mettete il like Solo se i contenuti di arte Per te vi piacciono E pensiate che merichino davvero Condividete anche sempre I video sulle vostre pagine Facebook E soprattutto Lasciatemi tanti commenti Qua sotto Dove potete suggerirmi Anche quello che volete vedere O semplicemente chiacchierare con me A proposito di chiacchiere Piccola cosa È difficilissimo oramai Rispondere a tutti su Facebook Se dovete dirmi E qui mi rifaccio Alla coscienza di ognuno di voi Se dovete dirmi qualcosa Di veramente 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 importante Scrivetemi sulla mail Se invece Dovete semplicemente Farmi vedere qualche lavoro Parlarmi del più e del meno Confrontarvi con me Per qualche suggerimento Scrivetemi su Facebook E io cercherò Di rispondervi Se non vi rispondo subito Parte una risposta preimpostata Che vi dice di ricordarmi Tra qualche tempo La risposta Quindi tirandola su Nella lista Fate conto Fate conto Che a me arrivano Più di 300 mail al giorno Ragazzi Quindi è davvero Davvero difficile Rispondere a tutti Ma faccio del mio meglio E soprattutto Se non vi rispondo Non vi offendete È solo Perché Non vi vedo Non riesco a vedervi È molto facile Che vi risponda Se mi lasciate commenti Sotto i post del buongiorno Della buonanotte Perché lì Vado leggendovi sempre tutti E quindi riesco A rispondervi Con maggiore facilità Detto ciò Basta tediarvi Vi lascio I vostri lavori di Natale Buona preparazione a Natale Noi ci vediamo sempre qui Nel prossimo video Nombretta Ed Art Per te è tutto Ma ciao Alla prossima Ciao a tutti Ed eccoci pronti Per estrarre Gli acquerelli Della Pentel Il Watercolors Arts Allora I commenti Lasciati da voi Naturalmente Ho tolto quelli scaduti Sono 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 687 Sorteggeremo Con random.org Eccolo qua E io già ho dimenticato Quanti fossero i commenti 1 di 687 Sorteggerò dal più recente Almeno recente 1 di 687 Ragazzi Incrociate le dita E vediamo Chi è il vincitore Il numero 99 Il numero 99 Vado a contare E sono subito Da voi È la fortunata Vincitrice Sei tu Sereds 042 Adesso inizio a partecipare Anch'io Richiamo alla fortuna È la fortuna Non si è fatta chiamare Due volte Cara mia Complimenti Fammi sapere Il tuo indirizzo E ti spiegherò Gli acquarelli Naturalmente Ho sorteggiato Contando solamente I commenti principali E non le risposte I commenti Se no Mi sarei persa Di casa E mi sarei confusa Tantissimo Io sorteggio Sempre così Potete controllare Anche indietro Comunque Serede Sereds 042 Hai vinto Mandami Il tuo Recapito E gli acquarelli Saranno Tuoi Per tutti gli altri Niente paura Perché Giveaway Su Art Per te Torneranno Prestissimo Quindi Grazie per avere Partecipato E ciao Ci vediamo La prossima Volta